Era una coppia formidabile. Quando mi chiedono quale sia stata la partner preferita di Fred, io rispondo subito. Ginger Rogers. Non danzava bene come Leslie Caron e Rita Hayworth, ma non importava. Ginger faceva di Fred l'eroe più romantico dopo Claire Gable. Ma anche lui la valorizzava. Stava tutto nel loro modo di muoversi, di guardarsi. Per esempio in Night and Day c'era una sequenza di passi in cui la danza parla più del dialogo. Una scena danzata. Parte la musica ed è magia. Si mettono a danzare. Non è una danza erotica, ma un bellissimo balletto romantico. Era così magico che inevitabilmente lei se ne innamora. in cui si mettono a danza. No. 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 A presto. 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 A presto.